Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo per la... ...che... ...ci interrotta per registrazione ...doppo ...saluta la mano saluta saluta che cazzo non c'è voglia Gabriele non c'è voglia ciao 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 cazzen a dopo nessuno finito che lo facciamo stasera vabbè è arrivato a avere un minuto mamma saluta dai eh aspetta di farmi un video che io lo prendo a Milena basta registrare eh minchia dai vi dovete abituare basta registrare il caldo si basta sembra un pappone pappone smettila allora Dio santo sono nove al prossimo grazie raga questo video mettiamo un po' di musica di sottofondo se vuoi te vuoi caffè metto un po' di musica di sottofondo se vi piace lo edito dopo ti amati ti amare ti amare ti amare la gamba è salita è la mia 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 ma è la mia è la mia ti puoi mangiare raga ti apre le mangiare che facciamo? attacco la controlla che chiede tigratina cosa c'è? ma lo stai controllando? ma lo stai controllando? hai trovato uno? va bene ragazzi va bene amore seguito oggi è buon ragazzi da dopo arriva, arriva arriva aspetta che provo? aspetta aspetta che provo schiaccia come cazzo si fa tabacchi tabacchi inserisci il documento come mostrato in figura vado a prendere la pizza io la puoi fare? che bello che cazzo stai facendo? stai dicendo ma che cosa hai fatto? vabbè a dopo lavorando grazie grazie grazie